Buongiorno ragazzi, non vi faccio tutto la patroia, quattro bamboloni che mi scegliate. E' la cadenza che fu... E' un po' di casino, è stato lontano da loro, è lontano da loro, è lontano da loro. E' un po' di casino, non vi faccio tutto lontano da loro, è 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 lontano da loro. Grande! Che buono punto! Che gol che ha fatto! Che gol che ha fatto! Che gol che... Che gol che... Che gol che... Grazie.